Ehi, perciò ne vado a fare? Eh? C'è un freddo? Perciò ne vado a fare? Perciò ne vado a fare? Ecco cosa ho trovato il piomp e la guida. Il piompino è il sole che godesse tracciato male, però ne ho trovato insieme a portare i cipi e cioi. Federe, bacchette, roba varia. Nei coglioni, i tuoi coglioni. Diciamolo domani. E' finita di armare. Ti dico, andiamo in una base, andiamo in giro al primo secondo e tiriamo fuori. E' tiriamo fuori. E' una mappa qua. E' un po' di vibratori, e' un po' di portatello qui. Eh, Robi, spagami il po' io. E' un po' di stress. Stai calmo, eh. Stai calmo, eh. Stai calmo, eh. Stai calmo, eh. E' ma il folletto lì dietro, l'hai fatto quando ho fatto la fata qua io. Come? Che sparare, che andelepiente. E' fatta prima anche il Gepo. Dopo ho fatto questo, per ultimo non voleva. Dai dai. Quindi gli ho fatto i due. Anche Zucco ha fatto quello. Dragone e Zucco, l'ho fatto. L'ho fatto prima, cosa ha fatto quella sera lì. Il toga del Zucco e il Gepo? Anche il Geppo l'ha fatto, mi sembra una farfalla, mi sembra che questa me l'ha fatta lei. Sì, ma non l'ha fatta. L'ha fatta noi tre. Non si registra mai, figlio. Ma va. E ne ho passati con te che secondo me. Ma la faccio ancora sbaracare, eh. Che tempi, eh. Io non c'era per nessuno, non pensavi a niente, eh. Eri bambino, ma eri già un uomo. Eri bambino. E' vero, figa. Eri bambino. Eri bambino, ma eri già un uomo fisicamente. Fisicologicamente. Eri già un altro più. Eri già un uomo. C'è del cuore. C'è del cuore. C'è del cuore. Robi! Magari mi vede qualche... Mi vede la Ferrelli di Ocane. Mi viene a prendere. Eri. Eri. Qu'è la Terra? Eri. Eri. Eri già un uomo. Eri già un uomo. Eri. Proverò il poter un tipo tic Faccio il quale? Proverò il poter un tipo tic tic a sprechi Proverò il roto Proverò il roto garmo ai trovati Proverò il poter? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.